Eccoci qui a Celebrate Truth con un altro video, sono Robbie Davidson e questo è assolutamente pazzesco. Che ci diranno ancora sulle scoperte degli scienziati e tutti ci credono. Questo articolo è appena uscito e ho voluto fare un breve video su questo perché quello che dicono è assolutamente pazzesco. L'articolo arriva dall'Australia. Probabilmente avete avuto delle sensazioni dell'intestino nella vostra vita, ma sapevate che anche il nostro stomaco pensa? Secondo gli scienziati in Australia, il corpo umano ha un secondo cervello, è vero. Abbiamo due cervelli, dicono, ma ci chiediamo come si è arrivati a questo. È nel di dietro ed è più intelligente di quello che pensiamo. Uno studio pubblicato dal giornale Jay Neuroshi scrive che il tratto gastrointestinale contiene milioni di neuroni che controllano indipendentemente il movimento dei muscoli del colo. Queste scoperte hanno identificato precedente tipo di attività neuronale sconosciuta nel sistema nervoso periferico, ha detto in una conferenza stampa il professor Nick Spencer dell'Università Flanders in Australia. Fino a questo studio nessuno aveva alcuna idea di quanto era esattamente grande la popolazione di neuroni in carica che provvedono alla contrazione dell'intestino, ha detto attraverso Science Alert. I ricercatori hanno scoperto che questi neuroni del sistema digestivo innescano raffiche sincronizzate le quali spingono gli escrementi fuori dal corpo. È lo stesso modo in cui si azionano i neuroni nel cervello quando inviano segnali attraverso il corpo. Vediamo come hanno scoperto questa grande informazione dove gli esseri umani hanno un secondo cervello nel aderetano. Spencer e il suo team credono allo stesso risultato. Un momento, cosa? Che è stato scoperto gli altri mammiferi compresi gli esseri umani. Anche se gli studi australiani sono stati condotti sui topolini. Quindi qui abbiamo la testata della CBS di Denver che ha preso la notizia da Science Alert dove tutti gli altri giornalisti scienziati dicono questo. E adesso gli scienziati ci dicono che abbiamo un secondo cervello e che il nostro secondo cervello è situato nelle nostre chiappe. Ma al momento hanno fatto l'esperimento solo con i topini. Ancora una volta questo fa parte della narrativa dell'evoluzione dove si arriva ai mammiferi che vengono identificati con l'essere umano, il quale sarebbe un altro mammifero, un altro animale. Gli esseri umani non sono animali, ok? Tutto ciò non ha senso. Non siamo un'altra forma di animale. Questo è quello che ci porta all'inganno che abbiamo visto come quando si arriva all'universo, si arriva all'evoluzione e a molte altre branchie dello scientismo. Loro fanno riferimento costantemente a questi paradigmi per stabilire ciò che noi dobbiamo credere. Non siamo animali. Andiamo avanti. Visto che hanno trovato un secondo cervello nel culetto dei topi, anche noi dovremmo avere un secondo cervello. Ma l'articolo non dice che anche noi dovremmo avere un secondo cervello, dice abbiamo. Possiamo usare questa bozza, dice. Possiamo usare questo come modello per capire come non possono insorgere disfunzioni motorie neurogeniche lungo il colon, ha detto Spencer. Il professore ha notato che il cervello nel nostro di dietro, tecnicamente è il nostro primo cervello, ok? Il nostro primo cervello perché gli scienziati credono che in realtà si è evoluto prima del cervello e del sistema nervoso dei mammiferi. Ok? Ecco tutto. Qui abbiamo l'articolo dove ci dicono di quello che hanno scoperto adesso. E cosa dice l'articolo? Andate a vedere e leggetelo voi stessi. Il nostro corpo ha un secondo cervello nel nostro di dietro. Ma come sono arrivati a questo? Oh, perché abbiamo trovato questo nei topi? E perché con l'evoluzione, sapete, il cervello nel di dietro si è formato prima del cervello della vostra testa. E questo è esattamente come funziona l'evoluzione. Le chiappe si sono create prima del resto. Allora ci siete. Quando credete nell'evoluzione, credete seriamente alle persone che parlano col di dietro. E questo è pazzesco. Gli scienziati hanno scoperto il secondo cervello nelle nostre chiappe. E così ci mettono tutti in fila con la narrazione. Sì, è giusto. E sapete perché? Con l'evoluzione? Sapete, questo sarà sui prossimi libri di scuola dove si saprà che il deretano si è formato prima della testa. Si è creato prima il deretano. No, 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 no. Torniamo indietro ed è come dice la Bibbia. Andrò a fare un video su questo molto presto perché c'è un'intera quantità di dati scientifici di quanto in realtà è stato condotto per supportare quello che hanno scoperto, dove alla fine la vita si è creata nello stesso momento, ok? Ma sembra che tutti questi organismi complessi, con tutte le strutture differenti, sono stati messi tutti insieme istantaneamente in meno di un secondo. Pertanto distrugge la narrativa dell'evoluzione. Ma ancora una volta questa è tutta propaganda. Il cervello nel di dietro. E questo deretano è stato creato prima di voi a causa dell'evoluzione. Gente, quando si metterà fine a tutto questo? Continuate a fare ricerche per la verità e diffondete le benzogne. Qui è festeggiare la verità e tornerò con un altro video molto presto. Prendetevi cura di voi. Ciao. 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 Ciao.